L'universo e l'io. L'universo e l'io. Il fatto è che tramite Facebook mi è arrivato un simpatico messaggio relativo all'artista Michelangelo Pistoletto. L'articolo dell'artista Michelangelo Pistoletto è apparso in tre lingue, italiano, inglese e spagnolo, in occasione di una grande mostra di arte contemporanea intitolata Uno più uno fa tre. Sì, è bellissimo, uno più uno fa tre, ma certo, è la dialettica hegeliana. Vediamo cosa dice questo artista Michelangelo Pistoletto. Comunque la lettera ve la metto come l'ingra riassunto di questo video. Non so se la posso leggere tutta. C'è scritto Io sono parte della natura. La mia mente è un'opera d'arte. L'arte mi ha reso mentale oltre di animale. Sono un animale che vuole conoscere tutto, sapere tutto, capire tutto. Ho lavorato come artista e ora comincio a capire che io stesso sono tutto. Ogni istante della mia vita è tutto. E tutto è ogni istante della mia vita. Beh, dopo continuo, è bellissimo, ma mi fermo con queste affermazioni. Mi soffermo. Comincio a capire che io stesso sono tutto. Ogni istante della mia vita è tutto. E tutto è ogni istante della mia vita. Beh, beh, purtroppo, 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 io serafino massoni che sono, sono questo qua. Io serafino massoni, sono questo qua, eh. Io sono questo qua, vedete? Questa è l'opera storico-mitologica che più mi rappresenta, eh. Che più mi rappresenta, che più mi rappresenta. Tra l'altro, tra l'altro, poi c'è anche un mio saggio scientifico, eh. Un mio saggio scientifico. C'è un mio saggio, eh. Vedete, from matriarchi, tu patriarchi, in inglese sta tutto il mondo. E il fatto è che, purtroppo, io non la penso così. Perché a me piace tanto, tanto, eh, il filosofo, il grande filosofo Plotino. Plotino. Attenzione che Plotino non è da confondere con Platone. Platone vive, diciamo, 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 nel 300 avanti Cristo. E invece Plotino vive nel 300 dopo Cristo. E io la penso come Plotino. Sì, sì, Plotino scriveva di vergognarsi di avere un corpo. Inoltre Plotino scriveva che noi umani siamo delle latrine ambulanti. Io preferivo non nascere. Io preferivo non nascere. Sì, sì, è vero, eh. Perché se io non nascevo non c'avevo nessun problema. Non c'avevo problemi da risolvere. E soprattutto se io non nascevo neanche poi mi toccava di morire, capito? Neanche poi mi toccava. Se uno non nasce poi non deve morire. E il fatto è che quando si muore, di solito, in media, si muore da vecchi, si muore da vecchi. E, 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 e prima di morire ti tocca, di solito, di solito, si tocca andare alla casa di riposo. Dove, dove se ne vedono di cotte e di crude. Dove se ne vedono di ogni, di ogni colore, capito? E io, io, io non direi, non direi, ogni istante della mia vita è tutto. È tutto e ogni istante della mia vita. No, no, io queste cose non le direi, forse perché non sono un vero artista, solo un vero artista può dire queste cose. Io non sono un vero artista perché mi vergogno di esistere. Sì, 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 mi vergogno. Se, se, se il Signore, il Dio degli eserciti, Overlord, quando ancora non ero nato, mi avesse detto, tu, Serapino Massoni, vuoi nascere o preferisci non nascere? Io gli avevo detto, potentissimo Overlord, preferisco non nascere, non farmi nascere. Fammi stare qua, nel mondo dei nascituri. I nascituri sono quelli che devono ancora nascere, capito? Quelli che devono ancora nascere. Certo che se non fossi, se non fossi dato, non avrei potuto scrivere quest'opera storico-mitologica. E vabbè, pazienza, pazienza, il mondo può andare avanti anche senza questa mia opera storico-mitologica, capito? Vabbè, tra me, Serapino Massoni e questo artista, un grande artista, è Nicolangelo Pistoletto. Tra me e questo artista c'è di mezzo il mare. Come dire, tra il Dio del Pare c'è di mezzo il mare. Va bene, cari amici, non so se mi sono spiegato. Casomai io non mi fossi adeguatamente spiegato, voi non dovete far altro che leggere questa mia opera storico-mitologica dove troverete ogni spiegazione. Ok, 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 cari amici!